Eh, oh, ok, ora? Dammi il tempo di leggere, allora. Allora, il satellite spia è tornato online. Un soldato della FIAR è stato trovato vivo, cioè intenda me. Gli altri sono ancora... Oh, oh, bene. Solita storia, continuiamo a cercarlo perché sembra che l'abbia intercettato di nuovo. FETTEL! È vivo. Devo chiamare un medivac? Non sembra essere morto. No, basta lei. Però non so come ha salvato. Basti te. Scusate di più tardi. Sto leggendo il transmettor Fettel, vicino a quella posizione. Abbiamo bisogno di prendere quella f***a, rapido. Jed, continui cercando di Tankowski. Sto leggendo il suo livello. Ok, alzarti con le pistole in mano, non può essere un problema. Ok, io... Io vado, eh. Bacino, bacino. Stai zitto, sto parlando con lei. Allora, stavo dicendo... No, ma a te di armi non ce ne hai, parlando d'altro. Aspetta, mi raccomando un attimo con lui. Non fare stronzate. L'ho vista prima io. Lascia l'intera, ok? Ok? Dunque. Medikit negli undizi si hanno nel caso di cercarne. Ma non c'era un modo per aprirle violentemente? Sì. Sì. Aiutateci a tenere pulita la stanza, però... Fantastico, quindi sono ancora da solo. Sì, non si stanno preoccupando di nascondere l'evidenza. Sto affetto là dei motivi che vanno oltre le convenienze politiche. Che cacchio è sta roba? Non ha senso scendere qui. Allora... Se non ricordo male, devo spostare questa cosa in modo da poter andare dall'altra parte. Qui no, qui sì. Qui no, qui sì. Qui, 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 qui. Forse nelle espassioni che potrò aprire le porte... Spara. Mike, what the hell is going on over there? It sounds like an explosion. I can't answer to anybody. Call me back. End the test. Avrà mai ricevuto una risposta a quello. Dunque, se non vado errà... What? Vabbè. Sì, scale, ma chi se ne frega, francamente. Tanto non è che prendo danni, no? Ok? Di questo non mi fido. I 115 punti ce li ho e li voglio tenere tutti. Ora, se tu ti aggiustassi un attimo la radio, eviterei di farmi cagare addosso ogni 5 secondi. X. Bene, bene. Oh, la luce. Vado in tranquillità, topi del cazzo. Oh, mamma! Capoclasse, dove è andata? Oh, mio! Ora ti sgamo, ora ti... Bastarda. Meglio non porsi i problemi a checkpoint. E quel coso mi ha dato 5 punti vita in più permanenti. E quindi è già qualcosa. Su, ok! Dunque. Mio. Questo non mi riguarda più. Di lì dove si va? Sono salito da qui, sono un coglione. Una... un altro. Contact! Ho sempre sognato di dirlo. Contact! Qui? Bene! Ca' non ci sta nessuno, ca' Bribita patibiti! Boh! 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 Io domino! Da qua E da qui non si passa Bene Roba qua sotto c'è? Dimmi di sì Dimmi di forse 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 sì Questo mi aumenta il tempo Bene bene Di questo passo potrò tenere fermo il tempo Per tutta la durata del gioco Non lo farò Eeeh Oh Skull Mi sto rifacendo della partita a calcio Che non ho potuto fare con gli amici prima Giù Agente segreto Non vedo cosa potrà mai servire Ma nel caso Teniamo aperta la porta Invece in questo gioco Sono così intelligenti Che si organizzano tra loro Non è che ognuno va per i fatti propri Se accendi la luce in loro direzione Vedono dove sei Eeeh E hanno un bel timbro Vocale quello Perchè ho premuto il tasso sbagliato Allora Io devo fare Z medikit X Devo fare Mi sta Mi sta rompendo i coglioni Sta cosa Controls Configura La luce La luce Dov'è la luce Flashlight Ok L'ho fatto L'ha preso Ok Bene Così Non mi dà il conflitto Dei tasti E soprattutto Ogni volta che lo accende la luce Non riesco a usare un medico E viceversa Qui Nulla Fa qualcosa Niente No Stop Tipi 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 Musica Rassicurante Niente da temere C'è chi dice anche gioca Fear Gioco Fear Fear Puttana Troia Eh ma che cazzo Hurra Stop Bitch Bene Proprio adesso devo finire i proiettili di questa? Shit, muoto Da qua, da qua A parte che, quanto varrà un medikit? Io non ho mai capito Posso, posso, grazie Via la cat Ok No, non posso Perché è pieno? Ma figaro Che armare è questa? È quella che ho io in mano adesso, ne? Sì, direbbe di sì Ho finito i proiettili Ho tolto una gamba, scusa, non volevo Quindi qua c'è il pieno Qua non c'è nessuno Più Andiamo La caga che dà a sto gioco a volte Forse sono anche io che mi complico un po' la vita No, non esplodono Prima neanche gli istintori Mi è esploso in faccia Ok, ora posso usare questi Volontà Spero di ricordarmi di tenere conto dei proiettili Oh, hacker Troppa roba mi sta dando Tant'occidenti Fa' vedere qui Tanta gente in allegria Spera, qui rischio di pertermi Aspetta Aspetta Roba qui sì, infatti Fa' nulla Tanti questi Oh, un pacco d'Amazon Cos'è? Pornazzi, eh Non lo so Ti leggi i pornazzi Dunque L'uscita è questa Solo che non mi è Oh, cazzo Come li secco questi Ma sì, dai Facciamo i nabbi Quick save E via È solo un coglione Cazzo Oh, cazzo Oh, cazzo Sono nei cazzi Sono nei cazzi Boo E' giù Ce n'era un altro, ne? Aspetta Grazie Grazie C'è mica qualcuno con un fucile a pompa da queste parti Mi farebbe tanto, tanto Comodo Grazie bro Facciamo Rifornimento dell'inventario No, hanno tutti il mitra cagoso che non mi serve Questi qui Che bello sgusciare Con lo slow motion Ammazzare tutti e tornare giù Mi rende simpatico Questa zona si pronuncia simpatica Allora, devo Sgusciare di lì Bimba Ma 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 Come ci arrivo? Io sono appena andato lì Perché mi fai questo? Sono appena stato lì No, non ci torno Non ci torno Aspetta un po' Ci speravo Ci speravo Bonnezza Roba Avevo ragione Alcuni istintori esplodono allora Non lasciamo nulla al caso Bambino del cazzo Non era intenzionale tutto ciò Volevo solo tirare un calcio al secchio E cazzo Dunque Bene Bene Grazie a tutti Grazie a tutti